I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia catenaria in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della locale procura a carico di MM e FM rispettivamente di 39 e 51 anni. I due conviventi sono ritenuti gravemente indiziati dell'omicidio aggravato di Vellega Domenico Antonio commesso tra i comuni di Acerra e Marigliano il 3 marzo 2022. Nella data appena indicata i carabinieri intervennero in via Torricelli di Acerra dove una Fiat 600 era in preda alle fiamme. All'interno dell'autovettura fu rinvenuto il cadavere carbonizzato della vittima. Grazie alle indagini e gli accertamenti tecnico-scientifici condotti sotto il costante coordinamento della procura di Nola i militari sono stati in grado di escludere l'iniziale ipotesi suicidaria. Le ricostruzioni degli inquirenti nonostante alcuni tentativi degli indagati di sviare le indagini hanno in definitiva consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti della ex moglie della vittima e del convivente di quest'ultima. I due indagati la sera del 3 marzo 2022 avrebbero gravemente ferito per lega Domenico Antonio all'interno della loro abitazione adoperandosi successivamente per sopprimere il corpo prima riponendolo all'interno del veicolo lui in uso poi applicando un incendio dell'autovettura quando la vittima era ancora in fin di vita. I due indagati saranno tradotti rispettivamente presso l'istituto per litenziario maschile di Napoli Poggio Reale e l'istituto femminile di Pozzuoli. I destinatari della misura cautelare allo Stato devono intendersi unicamente iniziali di delitto e la loro posizione sarà definitivamente accertata solo all'esito dell'emissione di una sentenza passata in giudicato in osseco al principio costituzionale di presunzione di innocenza.